Presidente Matteo Renzi. Oggi Ilaria vi ha detto una cosa che io condivido totalmente, vi ha detto che noi siamo qui con le donne e gli uomini che credono in Alitalia, che lavorano per Alitalia, che sono, come ha detto Luca, come ha detto Silvano, il futuro di Alitalia, non semplicemente per mettere il cappello su un'operazione che è stata fatta ed è un'operazione importante. Quante volte vi è già capitato di sentirvi dire adesso parte il futuro di Alitalia? Lei non può parlare, buono, tocca a loro. Tante, tante volte, perché è normale, perché questa è la storia per eccellenza in cui il futuro è sembrato sempre dietro di noi. Se c'è una storia, mi piace dirlo con molta franchezza, in cui l'Italia ha dato il meglio di sé per tanti motivi, ma anche il peggio di sé come visione e strategia, per colpa in larga parte della politica, è proprio l'Italia. Anni 70, anni Italia era probabilmente l'azienda numero uno al mondo. Eppure in questi anni abbiamo perso delle opportunità. Il futuro sembrava dietro di noi. Anche adesso il futuro è dietro di noi, grazie al lavoro di Luca, di Silvano, di James e di tutti voi. Ma quello che veramente sta cambiando è che per la prima volta il progetto è un progetto che guarda in modo non episodico, non strumentale, alla più grande opportunità che è l'Italia. Che è quella di essere noi stessi. E allora finisco molto rapidamente. Ci sono due Italie davanti a voi. C'è chi può dire che l'Italia è il simbolo perché in questi anni abbiamo perso l'occasione della vita. E quindi dobbiamo lamentarci l'Italia del pianto e del rimpianto. O se iniziamo a fare rimpianti sul nostro passato non finiamo più. Noi abbiamo un sacco di occasioni che abbiamo perduto. Quanti rigori abbiamo sbagliato. Quante occasioni abbiamo buttato via. E quindi chi sta a lamentarsi dalla mattina alla sera ha un suo perché. Ha delle giustificazioni. Può dire, eh mamma mia, però se qui avessimo fatto in un altro modo sarebbe andata meglio. Certo, è vero. Non lo dico a voi dipendenti di Alitalia, lo dico a voi cittadini italiani. Quante occasioni, se noi mettiamo ciascuno di noi un foglio e iniziamo a scrivere le occasioni che abbiamo buttato via, non solo nel turismo, non solo in Alitalia, che elenco facciamo? Un elenco enorme. Però arriva un momento in cui uno deve avere il coraggio di prendere e fare tesoro degli errori del passato, avere una partnership strategica solida, avere delle persone di qualità e provare a scrivere la pagina del futuro. E' la differenza fondamentale che c'è oggi in tutti i settori in Italia, tra chi vive di pianto e rimpianto, tra chi vive di lamentela e chi, sapendo che i problemi ci sono, prova a costruire una cosa nuova. Alitalia è questo. Voi siete l'azienda che può essere la più forte nel mondo in termini di messaggio, certo non la numero uno come clienti, come passeggeri, come scali, come destinazioni, ma può essere l'azienda che rappresenta il paese più bello del mondo e che vuole essere non soltanto un paese in cui la bellezza è il museo, ma la bellezza è il futuro, non soltanto il passato. Questa è la sfida. Allora io aggiungo una mia promessa alle promesse che avete firmato voi. La mia promessa è questa, mentre voi fate questo cammino difficile di ripartenza, noi cercheremo di rendere questo paese non soltanto un luogo nel quale si viene perché c'è stato un meraviglioso e glorioso passato, non soltanto un museo, ma un paese vivo, dinamico, un laboratorio, non soltanto un museo delle cere, un paese nel quale si possa, sì certo, vedere che tante cose vanno cambiate, ma provare a farlo convinti che noi siamo l'Italia. Questa è la promessa che facciamo a noi stessi e questo è l'impegno che chiediamo a tutti i cittadini, non soltanto ai dipendenti di Alitalia. Per voi oggi inizia una pagina nuova, io vorrei fare quello che ho sempre sognato di fare, vorrei fare lo steward, l'hostess no perché... Vorrei, vabbè, questa risolita, questa risatina sulla hostess, vorrei chiedervi di fare la cosa che io mi dimentico sempre di fare appena salgo su un aereo, vorrei chiedere di allacciarvi le cinture, vorrei chiedere di, con la gentilezza che vi contraddistingue perché lo fate sempre con grande gentilezza, ma vorrei chiedervi di allacciarvi le cinture perché qui stiamo decollando davvero, piaccia o non piaccia, ci sono le polemiche fuori tutti i giorni, ci dicono, ah, dovete fermarvi, rallentare, noi stiamo rimettendo il Paese a correre come deve correre perché l'Italia ha bisogno di non fermarsi e di recuperare gli anni che ha perso. Lo facciamo senza lamentarci di quelli che prima hanno buttato via delle occasioni, lo facciamo cercando di costruire oggi l'opportunità per i nostri figli e per il nostro Paese. Allo stesso modo voi allacciatevi le cinture, Alitalia decolla e decolla per nuove destinazioni, da oggi Seul, benissimo, non basta, sempre di più, certo, ma il decollo di Alitalia è il decollo dell'Italia, il decollo dell'Italia è il decollo di Alitalia. E allora, lasciatemelo dire, se vola Alitalia, viva l'Italia, non è un gioco di parole che farà contento Crozza, è l'unica vera chance che voi avete, rappresentate il Paese più bello del mondo, dovete tornare a fare l'unica cosa necessaria, crederci e impegnarsi, perché è finito il tempo in cui, anche in questo settore, bastava lamentarsi, è finito il tempo in cui ci dicevano che ormai l'occasione l'avevamo perduta. Sì, fuori da qui continueranno a dirci che è il tempo del pianto e del rimpianto. Io dico che è il tempo in cui, lavorando duro, l'Italia riprende il volo. Buon lavoro, buon volo, buona strada a tutti voi. A lei.